Un crimine efferato. È stato orribile. C'era sangue anche i suoi muri. Un'unica indiziata. Sapevo che avevano discusso per un video pubblicato su internet. Colpevole. O tutti parlavano male di lei. Lei davano della troietta. O innocente. Eravamo amiche. Migliori amiche. Il giudice istruttore l'ha rilasciata il 21 dicembre 2016 e posta agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico. Per il ciclo Voilà le Cinéma. So solo che mia figlia è innocente. La ragazza con il braccialetto. Giovedì 21 e 20, Rai 3. La ragazza con il braccialetto.